Awe non sta trattando di due giorni di presupposto di Paese Aruba. Ayer, in una disertazione con il nostro paese, tra i nostri paesi, arriva il deficit crescente di nostro paese. Il deficit è il buraco delle nostre finanze pubblici, di cui il governo è orinato a cada anno, che presta una placa per assinare per cubrire. Il nostro paese ha visto che il gabinete Mike Ehmann, fuori di suo inizio, viene con una quantità di plan, e, tra i nostri paesi, il plan per cada anno ha il deficit di 75 milioni di florin. Il plan non è necessario concretizzare. Tampoco il plan non si può fare il balanced budget accord, e se il tambe non è necessario che il risultato non si può fare il risultato che il risultato di presentare. Se non si può fare il risultato che il Banco Central ha pubblicato ultimamente, potremmeno che il deficit nel 2021 è 325.2 milioni di florin. Segui, per il 2022 è 443.3 milioni di florin, nel 2023 è 332.8 milioni di florin e nel 2024 è 445.8 milioni di florin. E se non si può fare il risultato che il terzo quartale di 2015 è un deficit di 234.5 milioni di florin, e ora non si può fare il risultato che il risultato di 2015 è un deficit di 25 milioni di florin. E il ultimo è che, non mi parla, il ultimo è che si curta la parla del Presidente del Banco Central, che è indicato che il 2020 è un'euro che è conosciuto la cifra di deve e il tambe di deficit non è mai visto. Ma lo quale tratta è ora e il risultato di 2015, il governo ha indicato che il deficit è un'euro di 3 milioni di florin, e il risultato delle più, che i due nuovi presidenti è un'euro di una situazione completamente digitale. e sa che ora non ha indicato che l'entrata del governo è molto alto a calcolare, le conseguenze che non ha realizzato, e ora non è il buraco delle finanze pubbliche, lo abbia più grande con il quale è in questo momento. Perché? E' una buona ora, a base della cifra che ha dimostrato che il gabinete Mike Eymann non ha un plan per la direzione delle finanze pubbliche, ma più triste è che non ha la volontà per la direzione delle finanze pubbliche, ma che il nostro paese non lo conosce, il quale è un deficit che non ha mai visto mai, come ora che il Banco Central ha pubblicato recentemente.